Buongiorno, oggi vi parlerò di componenti idraulici. Siete pronti? Pronta, lancio i componenti! Il generatore di calore Questa sarà l'ultima puntata del format Lanciami i componenti e quale elemento mancava per poter effettivamente concludere questo nostro viaggio all'interno del sistema impiantistico legato a quello che è l'impianto di riscaldamento. Mancava il generatore di calore che in realtà doveva essere il primo elemento dell'impianto ma che noi ci siamo tenuti come ultimo e per poter entrare nel dettaglio di questo elemento utilizzerò alcuni video che avevo realizzato qualche anno fa. Partiremo dalle pompe di calore per arrivare a quello che è l'utilizzo di un sistema ibrido che quindi è l'unione tra una pompa di calore e una caldaia a condensazione. Buona visione e a voi commenti! La pompa di calore aerotermica riesce appunto a prelevare l'energia presente nell'aria e ad utilizzarla per i suoi scopi. I suoi scopi sono pure acqua calda, sanitaria per poterci fare la doccia, per poterci lavare e l'inverno per poter riscaldare l'ambiente, riscaldare la casa. In estate è facile avere il caldo nell'aria, in inverno quando ci serve riscaldare gli ambienti non abbiamo a disposizione tutto questo calore ma in realtà anche quel poco calore, quel calore che c'è, che è presente nell'aria nel periodo invernale riuscirà a mettere in moto quello che è il processo di lavorazione di una pompa di calore di tipo aerotermico. Aerotermico che potrebbe sembrare di primo acchito la pompa di calore più svantaggiata perché va proprio ad estrarre la sua energia dalla fonte apparentemente più sfavorita che è quella meno controllabile, meno stabile appunto la temperatura dell'aria esterna. Quando ci ritroviamo a dover ristrutturare casa o semplicemente a dover pensare di cambiare il nostro generatore come ad esempio la caldaia, certe domande nascono spontanee. Starò scegliendo il prodotto giusto? Mi farà risparmiare? Oppure in quanto tempo riuscirò a rientrare della spesa sostenuta? Una volta questa domanda sarebbe stata impensabile sto cambiando una caldaia? Perché dovrei rientrare dei costi? Anche se vuole essere precisi si inizia a parlare dei risparmi sui consumi grazie alle prime caldaie a condensazione. Naturalmente non sto dicendo che in tutti i casi ci sia l'obbligo di pensare o di mirare ad un generatore ad altissima efficienza magari con quota di energia rinnovabile. Ma qualora ti venisse anche soltanto la voglia di pensare di efficientare la tua struttura o il tuo sistema ti ritroveresti di fronte a tre strade. La prima andare ad efficientare la struttura cappotto, serramenti. La seconda andare ad efficientare l'intero impianto del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria magari trasformandoli in un impianto radiante a bassa temperatura fino ad arrivare al generatore in quota parte o totalmente in chiave rinnovabile. L'ultima opzione che è quella su cui ci eravamo focalizzati poc'anzi è pensare di cambiare soltanto il generatore andando ad acquistare o comunque ad inserire sul tuo impianto un generatore in quota parte rinnovabile come ad esempio un sistema ibrido ovvero l'unione tra una caldaia condensazione e una pompa di calore. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati a mettere like e a condividere con chi riterrete opportuno.